Accantonato il dibattito sul coronavirus si torna a parlare di regionalismo differenziato in Campania. Più regionalismo, più mezzogiorno, più Italia, più Europa, il titolo del convegno promosso dall'AREC, l'associazione ex consiglieri regionali, a discuterne il presidente dello Svimez, Adriano Giannola. Tali intervenuti il segretario della UIL Campania, Giovanni Sgambati, e il consigliere regionale Antonio Marciano. Questa ripartizione, quello che è penalizzato è il blocco delle regioni meridionali, che di questo non si discuta, non tanto per rivendicare, quanto per riorganizzare il paese in modo da evitare il collasso complessivo di tutte le regioni, è molto grave, molto preoccupante e anche segno di molta ignoranza. Dobbiamo stare dentro i vincoli costituzionali, noi abbiamo bisogno di sicuro di un paese più coeso e più competitivo. E dunque i provvedimenti di cui sta parlando anche il governo nazionale, il piano per il sud, di intesa con grandi provvedimenti di governo, a partire dal piano di rigenerazione della pubblica amministrazione o gli investimenti sulle cosiddette risorse immateriali, scuole e università, anche della regione Campania, possono sicuramente invertire una tendenza, aiutare insieme a Industria 4.0 e alla realizzazione delle ZES, a una giovane generazione a rimanere qui in Campania, al sud, per dare una mano e per far risalire questa parte del paese e l'Italia intera. Le conclusioni sono state affidate al presidente della fondazione Mezzogiorno, Umberto Ranieri. In situazioni drammatiche come quella che impone l'esistenza di un rischio di epidemia, è evidente che il ruolo dello Stato è cruciale, così come il ruolo della regione, dei comuni e di tutti i cittadini. Non è un modello che rappresenta una novità. Nelle emergenze c'è la necessità di un impegno serio da parte dell'autorità legittima. Non è un impegno serio da parte dell'autorità legittima.